buongiorno a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo di nuovo con buzz come avevo già annunciato con il best deck il suo solo suo se lo mette a fuoco quindi ragazzi oggi siamo con la decklist random con i supporti che usciranno in CIEC che probabilmente sono già usciti no in CIEC in AGOV che probabilmente saranno già usciti non saranno più supporti nuovi perché la decklist è uscita in ritardo una lista aggiornata con una bella combo ovviamente però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jackstock il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi della vostra palta yugioh magic pokemon e one piece trovate il link di instagram sempre qua sotto contattatevi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo è ora che vai la spieghi questa mi interessa meno di di pluffa me ne vado fai la tua magia stregone allora pendolo intanto draco slayer pendolo potrebbe essere qualsiasi cosa e partiamo sul posto che saiak ci ha dato una singola carta e ci interessa davvero anzi due carte una e due perché i supporti magician sono carini e magari una profile se capita che vi piace ve la faccio c'è sia magician puro con i supporti su prinking gate che si gioca più o meno come magician vecchio semi midrange un sacco di risorse con i pendulum graph e con una board decente oppure c'è una versione molto più combo che passa per iper da pianta è molto interessante visto che i gate dicono che se hanno un pendolo c'è una carta fuso in qualsiasi e c'è una combo che per la pianta ma veniamo a una lista vera non cattabile e non discutibile 3 per delle carte forti e chi lo dice chiunque ha giocato draco slayer paia cino 3 perde tutte le carte forti questo è suo mono dopo vedremo perché che gli altri nomi sono stati sostituiti da an engine secondario poi ci serve una normal la normal che fa value normalmente è un buco ma in questa lista che è sfortunatamente probabilmente la lista migliore per giocare draco slayer serve un livello 4 quindi le opzioni sono due poi questo che quello che giochiamo effettivamente o è un'altra carta che vi facciano vedere più tardi quando parla il secondo engine poi capirete che però c'è problema che stringe tantissimo l'extra poi c'è la dino the beyond adesso la carta bellissima finalmente c'è un modio per giocarlo servando a sopra nibiru ladda di majesty e poi il secondo engine questo bello a questo fa più risorse possibili partendo da monocarta mono de queste quindi o tre una bicicletta un wakowshi più un nome qualsiasi non tuner e full combo anche anche joker e doppia di questa qualche volta arrangia comunque le combo poi si sistemano questo previ non vi serve tanto perché non passate per le line con barone lo star da scherebolo non serve a niente serve proprio per fare tutto pendolo l'unica roba peculiare è il secondo benché non è obbligatorio ma mi sono stufato dei pescane 1 non poteva effetto di wakowshi e non engine ci giochiamo quello che capita questo è il migliore possibile nel mazzo non è contestabile perché veda contemporaneamente un body su board un'interruzione in più anche se è molto difficile perché solito nelle line non c'è tre spazio quando fate la combo se no veda lo scartino per majesty vi permette di giocare meglio possibile sotto droll perché tante volte fate special effetto a dare se vi prendete droll lì fate bagusca più questo o sfere più questo qualsiasi cosa e passate così visto che prende droll sulla parte super heavy alla fine della fiera ve ferma comunque almeno così state con risorse qui ci sono 6 ht generiche adesso queste mi sembrano le più solide ma meta dependent cioè non ve ne frega niente che sono davvero queste drolle veiler un po più privilegiati perché sarebolo di selene ma adesso che selene appunto post agob non si gioca più non c'è nessun motivo di giocare vedere sopra ascio sopra altro quindi magari qui potenete nibiru o anche altre carte da second quello che trovate ovviamente contate che c'è te super heavy quindi le spell sono difficili da incastrare ma vabbè questo abbiamo a fine ma due spell ci sono che sono le talent più la terza poi decide anche trust stesso discorso il problema di trust che però deve giocare anche una trappola poi non c'è una trappola forte in sto mazzo si può giocare con super heavy perché non tutti gli effetti non possono essere attivati con la spell a cimitero anzi dei quattro effetti che ci avete perché vi interessa tanto il primo effetto di tutti e tre e quattro anzi 1 2 3 non partono ovviamente ma benché per esempio risolve quindi quello che vi interessa se scarrate bicicletta prendete wakashi e vi prendete roll wakashi fate effetto mettete benché sotto andate specialate e poi fate talent se vi prendete asso benché l'effetto che non richiede spell avete già risolto quindi fate talent l'unico caso pesante è giustamente se fate talent pesco 2 vedete wakashi wakashi non si può specialare ma è comunque una scala e fa comunque valio l'ultima monodemain adesso poi sta pure uno è un ht in tante volte un ht cerca engine perché comunque cerca queste tre magari vada engine c'è senza magari se vada engine ma la roba importante che sotto ht c'è monosphere the side si heavily sphere the eratic e questo è il target migliore piuttosto che dove giocare un brick in più che sia il classico brick pendolo che ha morfago che sia kokimeru drago quello che è extra extra stra pulito finalmente 2 la carta più forte del mazzo mono e mono oppure ulti coreano perché bello questo è più bello tutto ulti questo è s'obbligatorio si incro la carta più forte del mazzo probabilmente queste fanno un sacco di risorse nella combo state per tutti e tre due beyond non serve necessariamente la seconda ma per recovery è solida quindi ci piace finalmente exceed pendulum carta molto molto solida non necessariamente tanto più di selene per esempio se non giocate super heavy in qualche spot potete giocare entrambo solo selene non è necessario che si passa a giocare per force exceed ma in queste liste qui è tanto più comoda permette deluppare astro che è una roba fortissima e permette di giocare sopra la nib che poi vediamo mascherena e il nuovo target mascherena questa ovviamente sarà la carta più forte dell'ago c'è poco da fare speriamo che non costi 80 euro e se non sapete cosa fanno le due carte nuove anzi le mettiamo da parte ve le spiego finito l'extra al volo questa è l'hand board questa è l'hand board gli ultimi tre slot sono flessibili però abbastanza convinto che due dei tre sono obbligatori che sono mono bagusca e monosfere servono per andare sopra l'ht perché la board sotto shifter sotto troll generalmente è bagusca più sfere più un body e qualche volta se giocate da second poi c'è anche villaggio c'è g2 g3 perché decide comunque va aiutando sopra l'ht parecchio perché tante mani magari se le chiedete così è un mazzo non c'è da gesto troppi link c'è difficoltà a togliere la bagusca perché comunque sigillo bansa un link se non gioca tipo kerbero o espirito il knight ma quella già più gestibile e poi c'è una mono particolare questo fireball qui nessuno sa cosa fa sta carta un tempo prima di espirito il knight si portava di mascherena incavate mascherena polla è un body qualsiasi che si lasciava appunto a fine combo in più perché ho link 6 e dice fondamentalmente che effetto rapido fa tornare in mano carte sul terreno o cimitero dell'avversario senza target pare il numero di tipi diversi dei carte d'extra al cimitero senza link quindi in soldoni conta sincro fusioni xyz e rituali a cimitero se ce n'è per ogni tipo che c'è cimitero bounce one in più generalmente voi finite sempre con 2 e se queste sono sotto 38 magari questi non ci so però spesso la cosa che succede è che se linkate via 38 magari a fine combo avete anche fusione quindi bonsate 3 perché sta carta e soprattutto se dicevo se porta di mascherena ma adesso c'è spirito il knight c'è motivo pratico che i mazzi contro non per forza contro il normali ma più tipo stun diciamo tipo labyrinth stun rischiate che c'è una singola interruzione che lo pone che pone gana trappole che è savage tutto il resto ci fa interagisce 0 38 appolla e spirito il knight tutte carte con le trappole non fanno assolutamente niente e di conseguenza se ne fa 7 5 passo e rischiate magari che passa aveva fatto tipo che non so compulsori su savage negate skill 3 in persa fate in end il fine main singularity andate in end effetto in end gli abbonzate 3 nel vostro turno c'è solo due trappole una se nega una bella tankate cosa fanno le due carte nuove al volo la carta da pendolo exeed che non l'avesse vista mai è la versione evoluta diversa di beyond in 3 di beyond dice in 3 due mostri con effetto di cui un pendolo quindi meglio di beyond c'è due mostri qualsiasi di cui un pendolo quindi meglio perché prende mostri anche normali e se no spesso vi trovate che con questo non potete fare beyond ma potete fare exeed entra riprende un pendolo d'extra face up quindi recupera una risorsa nel nostro caso sarà astrograph durante il combo e il secondo effetto che fa fare una pendolo di 1 fondamentalmente quindi dice una volta per turno specialato un mostro pendolo da mano o cimitero con livello compreso tra le scale effetto rapido durante la main quindi se rimane su board anche nel turno dell'opo difficile ma può succedere questa è la carta bella è spiritual knight link 2 punta destra e sinistra due mostri con effetto la fate con link exeed sincro fusione entra e banna un mostro una carta no si un mostro non è costruito un mostro una carta c'è un lab so è tutto terreno o cimitero dell'avversario da target secondo effetto quando l'opo attiva una carta o un effetto targettate un mostro controllate un mostro sul terreno banna entrambi fino a fine turno questo c'è due usi intanto se la portate di mascherena conta sempre il primo effetto perché mascherina ovviamente link quindi entra e banna uno che già è solido in più quando l'avversario fa alcune intruzioni o fate effetto targettate tipo lei e il mostro dell'opo bandite entrambi fino a fine turno di title body oppure una cosa che può succedere che è molto interessante è a full board che poi vedremo che questa fate così non mostro qualsiasi se l'opo aveva in battle perché c'è tipo doppia eve lì e rischiate non c'avete una mano che la tanca o c'avete porre doppia eve lì in generale o eve lì perma quello che è era battle fate effetto mascherina linkate così questa entra magari non banda niente sti cazzi però in battle prima eve lì la negate seconda eve lì o perma fate effetto di espirito all night questi ve li portate via così nel prossimo cioè a fine turno ve li tornano e non state su board vuota anzi state come potete pendurare tre perché se ponendo che vi toglie full board pendurate zone extra più le due sotto espirito all night 38 e comunque una negata anche senza materiali che è straforte e comunque vi lasciate a polla sotto eve lì che comunque in interruzione la battle non c'è più per togliere allora la side intanto la terza talent le carte queen first o pochissie soltanto tre la terza talent 80 primi ripeto non stranamente anche se sembra non pesa con super heavy nonostante quando era puro pesava adesso il match è giocabile senza cioè nel senso c'è giocabile con un paio di spell perché la mia piccola e poi le due carte da primo che vincono match up da sole zombie world per flander e villaggio per tipo tutto il resto se ci avete paura che l'oppo sai di spoli ruler droplet tutte ste carte qui che non potete fermare fate la combo con secret village e finite su praticamente la board normale ma con villaggio normalmente finite senza un body de meno quindi senza mascherena o qualcos'altro o rinunciata mascherena minciata savage 38 la come due carte la cosa che potete fare è giocare mono dugares possibilmente the side lo portate dentro insieme a villaggio perché con due carte e dugares fate full combo in terra più villaggio ovviamente rinunciate a far la linea che tanka più ht quindi comunque può sarà da vedere però può essere una roba interessante io preferisco lascia qui decidete tanka comunque l'ht e fa una board più debole le carte second conti contro l'enco secca questa la conoscerete tutti poi questa non c'era 5 persone sulla faccia dell'universo puffino ridente laughing puffing è l'unico out grosso che avete alle flood quindi skill drain anti spell che sto mazzo soffre una roba finta gozen rivarri e compagnia e c'è soltanto due out grossi dentro sto mazzo che sono puffino ridente e saggio dei fiori saggio dei fiori con questo capo magari in super heavy anche questo un pochino si è visto ma saggio più forte in super heavy però siccome sto mazzo non c'ha il pezzo da sacrificare a caso questo è più solido è speciale se c'è una carta che mi trappa la face up effetto rapido se tributa la fa torna in mano e siccome se tributa per costo anche volte permette anche delle toglie skill drain poi un ht solida perché un sacco di gente overextenda quindi forte poi la carta più bella del format tasme questo in che c'è un chained rescue ace i mazzi che fanno link è una figata poi contro un chained previene anche adesso è spaccato allora vediamo una base questa è la linea che tanca nibiru e lo tanca in un modo particolare cioè lo prendete voi fate sul combo sotto la full combo base identica ma senza prendere nibiru quindi penso che la potete strappola da soli partite la combo wakashi più nome prendo questo perché giallo quindi il più scherzo wakashi special mette uno sotto e questo ha da uno normalmente questo non serve davvero va aiuta aiuta fabaguska zeus se giocate la fusca zeus nel mio caso di da fabaguska e basta comunque serve però una combo come questa semplicemente lo scartiamo normal un pezzo qualsiasi sincro quando sincrate wakashi wakashi torna in scala vicino un po la pila sincrate l'altra più bella del mazzo questo porta uno adate la terreno e scartate la carta che non vi serve qui ci avete i body per fare biondo ovviamente e aggiungete astro ora la combo base per tancare nibiru è astro irida in mano e il sincro cimitero tutto il resto bene o male poi se scala c'è altri pezzi siete partiti solo con draco slayer joker o altro è indifferente c'è la combo ci arrivate questa è la quinta summon ora ovviamente l'opo aspetta che pendolate quindi pendolate due e supponiamo che vi tancate nibiru adesso che è la cosa più probabile l'alternativa è che fate due steppini di climb e poi è arrivata da pollo ovviamente dopo li venivano un po' più fa quindi qui si prende nib e qua c'è il token cominciamo con la terreno faccio qui sopra che siete meglio e spaccate una scala in questo caso è meglio spaccare wakashi perché xid vuole sia meglio tenere la scala bassa perché poi in quell'altra ci va revo prendete revo scala effetto questo riporna uno tirate sul sincro quando si spacca parte astro che entra e viene prendendo un'altra copia poi fate effetto della fusione del sincro portate uno qui se non sbaglio si porta metto tutto un po' più sotto così si vede meglio anche sotto la telecamera anche se astro colletto si vede merda vabbè glare e poi fate linkate entra xid xid fa effetto e riprende astro in mano potete mette astro non so riprendete revo fare effetto di nuovo e ribornare uno ora astro rientra e prende il terzo revo quindi c'è qui il modo per fare più risorse possibili ora in extra ci avete un draco slayer quindi se può passare per l'exis perché l'obiettivo è passare per tutte le risorse generalmente equiporate rosso col sincro fate xis fatelo sempre a destra è meno importante adesso per per xid però per selena è importante quindi magari buona abitudine staccate questo non è troppo troppo influente e potete portare uno d'extra poi ora xid può fare effetto prima mettete scala dovete scala piena xid fa effetto 112 questo è livello 4 quindi rientra pure questo qua potete fa contact la fusione quando la fusione è fatta contact cioè quando verde tributato per contact riprende un draco slayer quindi ci avete un po di mano se potete farlo con un paio di step più in là riprendete ma gesti non cambia niente fate a polla anzi fiamo con questo cambia poco facciamo polla polla da 2 golosa poi potete ripornare di nuovo entra questo potete rifare effetto riportare uno da mazzo ora avete ancora il reborn e la fusione quindi qui fate prima cominciamo a sistema i pezzi penso un secondo non so distratto questi vanno alla fine questo andrà via subito prima dei fio che andava giusto ora hai portato un pezzo a caso qui non importa che sia rosso vincate qui c'è mascherina poi ora la fusione può rebornare uno deve reborn a rosso comunque dovete finire con rosso subword il singolo target a questo e rimischia benkei così se per il tour dopo avete un altro wakaoshi cadati in indexes adesso vediamo generalmente quello siete messi bene rosso porta uno qualsiasi massimo diventa tuner e qui avete la combo finita questi qui fanno 38 e questi due fanno savage ora la combo che sta così sotto nib è un pelo pelo meno forte perché non finisce con mettiamo un body in più uno qualsiasi non importa quale sia come la combo base perché c'ha i body di più quando prima delle tankasse nibiru però comunque finisce ok poi ovviamente andate in end l'ixis dice cadda un pendolo in end andate questo avete anche rimischiato wakaoshi quindi anche se si pescate il secondo siete a posto e ci avete tre carte in mano normali dicevo la combo non finisce col body in più quindi quello che potete fare che forse è anche più forte è non fare maschere na ma su stavore fare direttamente espiritual night magari le zone le famo così perché se proprio sono turno state messi un po' meno meglio pendolare però lì da la stessa e così che espiritual night vi va già da subito mentre con mascherina vedete prima l'incapi via un pezzo e sono tutte interruzioni che vorreste ottenere qui finite con le due carte in mano la combo base era due carte quindi ce ne avete altre tre la combo sotto nib vi faccio solo una roba al volo vediamo giusto due linee semplici perché una roba che imparerete se mai giocherete pendolo è che shifter e draw vi spezzano ma la linea c'è partiamo sotto draw evocate wakaoshi semplice semplice portate ben kei date questo e prendete sorry no date questo e prendete draw questo entra special potete anche pendolarlo dopo quindi in realtà va bene così potete fa normal sincrono normale sincrono deve portare da mazzo un drago quindi o il giallo non avete pescato master o luster wakaoshi torna e scala quando è sincrato qui fate appunto il motivo perché prima avevo detto che si gioca con un bel brick c'è un brick una carta inutile d'extra poi pendolate ci avete così questo in realtà se potete in mano non vi serve davvero perché è una risorsa gratis qui fate la busca per semplice super pulito se ci avete body in più magari potete fare una bordo un po meglio potete prometta polla sopra passare per exid perché ovviamente essendo che sta prende dall'extra poi riprende sotto draw però la bor base base molto pulita questa ovviamente mano wakaoshi fa bagusca cioè portate questo alla peggio fate solo bagusca o pendolo due a caso comunque il modo lo trovate però l'altra line sotto shifter fate la stessa identica cosa però vi serve un body in più wakaoshi porta questo che ha dall'altro prendete shifter fate la vostra normal quando fate sincro anche se i pezzi vanno banditi quello che dice wakaoshi è che basta che è stato sincrato per tornare in scala quindi torna sotto anche se è bandito per questo riuscite a fare una kombu mana sotto shifter guardate i pezzi quindi andate tutto bannato fate la vostra cosa e poi con l'altro body più questo fondata fa bagusca e ricordatevi che i pendoli sotto shifter va bannati perché la connami è bastardi e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se volete che ritorni riportando di nuovo pendoli in una sua versione futura perché c'è magician appena esce ago poi c'è magic spectre poi fanno per la pianta con magic fanno tutto fanno tutto se è metà marrone metà best metà verde bellissimo e i pendoli soprammora di sotteverra a me va bene tanto finché lo fate voi il contro non lo faccio io sto contento devo solo montarlo giusto detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti